amici di milan.soccer eccoci un nuovo appuntamento buongiorno 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 già in viaggio già pronti per una nuova giornata ma sempre con il milan in testa e nel cuore prima di cominciare come sempre vi voglio ricordare l'iscrizione al canale fatelo qui sotto grazie è gratuita e anche un bel like un pollicione a questo video per esprimere il vostro gradimento allora abbiamo un po di cose da dire un po di cose direi anche sufficientemente importanti è vero il campionato è fermo è un momento di pausa di riflessione quindi dobbiamo aspettare gli eventi però c'è da dire che purtroppo i giornali continuano a montare il caso relativo alle questioni giudiziarie che appartengono al milan le questioni giudiziarie relative all'ispezione da parte della guardia di finanza documenti che sono stati mandati alla procura federale sportiva in particolare solo però il verbale d'accesso il che significa che il procedimento è molto lungo non c'è nulla di nuovo peccato che alcuni giornali di cui sappiamo continuano in questa operazione di denigrazione denigrare il milan questo è l'obiettivo non c'è scritto nulla invece per quanto riguarda le questioni relativa all'altra squadra di milano in particolare quello che è il procedimento in corso per capire quanto una parte dell'organizzazione malavitosa che sarebbe presente uso il condizionale perché c'è un procedimento in corso quindi la come dire predisposizione finché sentenza non giudichi vale per tutti e c'è stato dicevo un processo che ha riguardato una parte del tifo organizzato dell'altra squadra che avrebbe a dire di questo procedimento almeno della pubblica accusa una relazione un rapporto con la criminalità organizzata sono stati ascoltati anche dei dirigenti dell'altra squadra ma il buon giornale di cui non faccio il nome non fa alcuna menzione in tal senso quindi come vedete i procedimenti sono tanti ma ci si concentra solo su quelli relativi alla c milan che intanto si è regalata una bella trasferta per un world soccer tour poi daremo tutte le date e daremo diciamo così un po tutte le informazioni del caso ma è davvero troppo presto parliamo di la fine di luglio e primi di agosto ma intanto è stato ufficializzato questo torneo che ci vedrà come dire protagonisti insieme al barcellona al real madrid insomma le squadre più titolate al mondo ma veniamo alla questione un po relativa alla copertina e sì perché c'è un grosso dubbio nel milan io voglio parlarne con voi sono fermo è state tranquilli sono in un parcheggio quindi è tutto sotto controllo mi sono fermato per fare benzina quindi mi sono messo da una parte dicevo volevo fare una riflessione con voi sapete questo è il nostro canale il canale di tutti noi e dunque le vostre opinioni contano più che in altre parti perché cerco di rispondere insomma anche in questi dialoghi vi coinvolgo è stata fatta la richiesta ufficiale per sirkesi intanto tra il milan e il bologna per quanto ci siano delle relazioni per esempio per quanto concerne salema care e dunque ci sono opportunità di prenderlo ad un costo minore il prezzo fatto dal bologna è un prezzo importante stiamo parlando di 40 milioni ora questi 40 milioni in parte potrebbero essere scalati dal progetto salema care che definiamolo così quindi potrebbero essere scalati dalla definitiva vendita del giocatore però la domanda che io vi voglio fare questa è chiaro che il milan ha necessità di una prima punta perché dunque praticamente quasi ufficiale che il nostro olivier girou se ne andrà in america per cui mancheremo di una punta ma chi sarà la punta titolare il prossimo anno io vi dico sirkesi è una figura che a me piace molto però e qui uso sempre le pinze non so secondo voi il valore di 40 milioni di euro è un valore che ci può dire ci può far dire abbiamo preso un top player perché da una parte è ancora una scommessa ha fatto benissimo sta facendo benissimo al bologna però anche piante che fece molto bene al genoa seconda cosa nella pressione di san siro del milan del mondo milan è un giocatore caratterialmente all'altezza del salto di qualità che gli viene chiesto ed infine ancora per quanto concerne il suo cartellino quanto poi sarà centrale rispetto al resto della della campagna acquisti io devo dire che è comunque il primo nome ho ancora qualche perplessità ma non sul giocatore l'ho visto giocare mi piace a quella fantasia che non mi fa venire in mente ad un 9 puro per cui genius regolatezza per me è una figura un sogno però qualche dubbio c'erò sul salto di qualità dobbiamo però essere molto sinceri perché facciamo un attimo chiarezza sulla panchina primo il milan punta alla riconferma di pioli il che significherebbe che il milan va a vincere l'europa league se vince l'europa league e consolida il secondo posto pioli non si tocca nel frattempo conte che ha incontrato come abbiamo detto in passato zlatan ibraimovic che dunque è pronto al venire al milan ha dato un termine cioè ha detto sì però non aspetto fino alla fine perché rischio di rimanere a piedi e allora altre squadre tra cui la juventus stanno riguardando la figura di conte come una possibile alternativa poi quindi pioli conte poi è venuto fuori il nome di pancini ma sono contento che abbiate ascoltato bene il video è solo un articolo uscito in un da un giornale in arabia saudita che faceva anche il nome del milan ma credo che siamo ad una percentuale molto bassa in quanto andrà al newcastle ma in queste ore sta girando e lo avevamo già detto un altro nome ancora perché nel momento in cui conte dice non aspetto più pioli non dovesse vincere l'europa league e non consolidare il secondo posto quindi il milan deve cambiare sta girando qualcuno me l'ha scritto anche tra i commenti quindi do risposta anche attraverso questo video il nome beh sì di lui l'avete visto e sarri sarri è un'ipotesi che attualmente convince i dirigenti del milan è tutta una questione di tempistiche sia tutto molto chiaro è una questione di tempistiche se conte saprà attendere e milan non dovesse vincere l'europa league e non fare così bene alla fine alla fine tanto da poter arrivare secondo terzo secondo terzo quarto comunque in champions il milan deciderà di cambiare ed andare verso conte se conte invece nel frattempo avrà trovato una soluzione liberandosi moralmente dall'impegno con ibraimovic dunque il milan trovandosi scoperto potrebbe scegliere anche la figura di sarri fatemi sapere cosa ne pensate io riprendo il viaggio ci vediamo più tardi baci ciao